Buongiorno, sono la CloudBeds. CloudBeds è un software facile di usare che offre le strutture turistiche, una soluzione centralizzata che aiuta a gestirle in modo semplice e efficace. Il pacchetto All-in-One include il gestionale di prenotazione, il motore di prenotazione e il channel manager con più di 300 connessioni e anche un revenue management system. Per più informazioni vi aspettiamo al TTG Armini. A presto!